Questo francese qua Che? E' Rusi E' Rusi Vediamo il numero 73 Rusi Francai Ecco Il record man sui 500 metri Riknot knok come si vede sulla sulle spalle Che cazzo prendi il Ma che cazzo hai? Eh? Cosa? Infilmalo e impara Impara come sigareggia Invece che infiliare 2 secondi e lamentarti 2 secondi e ti lamenti Discussione Discussione 2 secondi e trovi le scuse Cosa che ti chiudono? E' Victor In 2 secondi Dira Victor No Cazzo fai e fai guardare Viz Che spiega la madre Quando io lo filmo tu non puoi parlare Se no mangi E' lui E' il migliore Guarda Guarda come si scappa Mi ha attesa Stava tappando i buchi Sì Vediamo a che punto sono Non si vede da qua Ecco vediamo si parte Si parte Quanti megapixel ha? 8.1 C'è nemmeno della mia Ma va a cagliare Ok Ma va a cagliare Guarda quella mia Quanti le ha? Da qua? Da qua guarda Ti riesco a vedere l'interno di me Anche una fika strabata Ma da cagliare C'è nemmeno di me No In In No In 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 Ah, è piccolo! Guardate quanto di Stato ci ha già dato! Grazie a tutti. Grazie a tutti.